Di nuovo buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Code per un veicolo fermo, siamo fino a 3 km sull'A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna. Sempre in A1 direzione Roma tra Monte San Savino e Valdichiana, rallentamenti per un veicolo fermo. E ancora tra Sasso Marconi e Rioveggio, personale su strada, lavori in direzione di Firenze. Passiamo alla 12, Sarzana-Carrara, veicolo in avaria in direzione di Genova. Ricordo che in A1 stanotte dalle 21 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Rioveggio in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pian del Voglio. Ed è tutto per il momento grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.